Siamo qui con Giorgio Frosini al termine di una semifinale combattuta con Sassuolo, una finale conquistata per Limoco. Le tue impressioni? Allora questa partita è stata molto dura, combattuta fino all'ultimo, infatti ogni punto si sentiva proprio l'adrenalina nel corpo e niente, non vedevamo l'ora di andare in finale perché secondo me siamo un gruppo che ce lo meritiamo di essere dove siamo arrivate e niente, adesso pensiamo a domani. A distanza di una settimana un'altra finale, tu sei stata tra le protagoniste del campionato mondiale Under 20 vinto dalla nazionale e ora in una finale domani contro il ballerò Casal de Pazzi per lo scudetto Under 19. Allora, vabbè, c'è un'emozione incredibile, io non ci credo, dopo aver vinto il mondiale, adesso anche una finale scudetto, non so cosa chiederei meglio sinceramente. E sono tutte sensazioni che quest'anno me lo ricorderò tantissimo. E niente, adesso andiamo domani contro il ballerò, sappiamo come sono, toste e noi ci faremo trovare pronte, vedremo, vedremo domani. Grazie mille e complimenti. Grazie.